partita in pausa partita in corso 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 qui non è possibile, mio signore partita in corso serve della pietra partita in pausa partita in pausa erganzie insufficiente partita in corso partita in pausa 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 partita in pausa partita in pausa partita in corso partita in pausa 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 servono altre reclute sire partite in corso vostra grazia che cosa possiamo agli strumenti d'assedio agli strumenti d'assedio servono altre reclute sire partite in corso partite in pausa partite in pausa non soffriranno neppure partite in pausa 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 servono altre reclute sire partite in pausa partite in pausa partite in pausa servono altre reclute sire partite in pausa partite in pausa servono più armi sire Sono pronto, Sir! Partite in pausa! 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 Noi siamo in mazieri! Partite in pausa! Partite in pausa! Partite in pausa! È una risposta! Vai,oras! Int Yours! Serrate! Rapidamente! Scusate! Partite in pausa! Partite in pausa! Partite in pausa! Ahii! Servono più armi! Partite in corso. Partite in corso. Cosa vi serve? Partite in corso. Sono già morti. Partite in corso. Partite in corso. Bisogno di muscoli. Partite in pausa. Partite in corso. Partite in pausa. Partite in pausa. Partite in pausa. Partite in pausa. Partite in corso. Faremo del nostro meglio. Partite in pausa. Partita in corso. Eroico. Qui non è possibile, mia signora. Partita in pausa. Partita in corso. Cosa? C'è il capo. Partita in corso. Partita in corso. Partita in corso. Partita in corso. Un messaggio dal desiderio. Non ho veli da poterci dare. Partita in corso. E' una risposta. I tuoi alleati. Un messaggio dal visito. Non attaccherò finché non giudicherò ad atto il momento. Serve della piedra. Ah, attenti! Partite in pausa. Partite in pausa. Partite in pausa. Partite in pausa Partite in pausa Partite in pausa Attenti! Servono più armi, Sire! Partite in pausa Partite in pausa Partite in pausa Sono pronto, Sire! Partite in pausa 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 Sei il settimo signore di potenza. Qui non è possibile, mio signore. Un messaggio dallo sceriffo. Il nostro figlio di gloria sarà finito. Preparatela a sbagliare la mala storia. La storia è morta. Cosa ti sarà morta? Mi sarà giù, amici. Cosa ti sarà morti? Come? Noi siamo i mazzieri. Un messaggio dal visio. Non attaccherò perché non giudicherò. Adatto il momento. Cosa vi serve? Partita in pa, partita in cura. Un messaggio dallo serifo. Fulmini e buoni. Assegni un compito molto semplice e cosa ottieni. Al giufano, Saria. È una disfaccia. Servono altre reclute, Sire. Bisogna di muscoli. Forza, forza! È una disfaccia. Al giufano, Saria. Servono altre reclute, Sire. Al giufano, Saria. Perca più plurie. Un messaggio dallo serifo. Ho bisogno di altro denaro. Portatevi le giacoste. Perfetto. Sire. Ci sono in fiamme, Sire. Un messaggio dallo serifo. Ho perso. Dio. Perfetto. Cos'ho nelle carte? Un messaggio dallo serifo. Ha rucciso uno dei nostri. Un messaggio dallo serifo. Un messaggio dallo serifo. Un'altra bittoria gloriosa dal mio popolo. Che ne pensi? un messaggio da guardi leone quando un re deve cercare rifugio nel suo castello un messaggio da guardi leone bene sai demolire qualche edificio un messaggio da guardi leone con stato sconfitto i miei poveri osso dovranno riposare in questo e sabbie maledetto cosa bisogna fare noi siamo i mazieri un messaggio da chi si è una dei nostri nemmi la prossima volta lasciali a me sono il riso nel cosa il capo noi siamo i mazieri cosa mi serve cosa un messaggio da uno sceriffo perché non ah un messaggio da uno sceriffo un messaggio da uno sceriffo Noi siamo immaginati. Noi siamo immaginati. Noi siamo immaginati. Noi siamo immaginati.